...unico che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming con modalità sperimentale sulla web tv della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno recca l'audizione del direttore centrale dell'immigrazione della Polizia delle Frontiere, prefetto Massimo Bontempi, accompagnato dal direttore del servizio della Polizia delle Frontiere e degli stranieri, dirigente superiore della Polizia di Stato, dottoressa Irene Tittoni. Un benvenuto e grazie per essere intervenuti oggi. In seguito all'invito che è arrivato dalla nostra bicamerale, desidero ricordare che l'audizione del prefetto Bontempi si svolge nell'ambito dell'indagine conoscitiva gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone, con particolare riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia alle frontiere Italia-Francia e Italia-Slovenia nel quadro complessivo dell'applicazione degli accordi di Schengen. Grazie di cuore ancora alla dottoressa, grazie di cuore al prefetto Bontempi che abbiamo avuto modo, come sanno i nostri colleghi, di conoscere, come dicevamo prima, il prefetto, prima dell'inizio dell'audizione, sul campo. Ci ha accompagnato il prefetto nella missione che abbiamo avuto a Varsavia, la sede di Frontex della bicamerale Schengen, così come nella missione che abbiamo avuto sul confine a Ventimiglia e ho avuto modo anche sul campo di vivere, non una missione, ma un importante momento, veniva ratificato e siglato, se mi correga poi perfetto, un accordo tra la Polizia di Stato italiana, Polizia di Frontiera e la Polizia della Confederazione Elvetica, a Cantonticino, a Como, a Chiasso, ok, ed era stato un momento importante per la sicurezza e il futuro del nostro Paese nell'ambito della collaborazione tra le due forze di Polizia. Le dò la parola, la ringrazio ancora per essere intervenuto insieme al nostro comitato, prego prefetto, grazie. Grazie a lei Presidente, buongiorno a tutti i membri del comitato, sì in effetti sono state emissioni estremamente interessanti e estremamente piacevoli, anche devo dire, mi fa molto piacere quindi essere qui per questa audizione. In effetti i due esempi che lei ha citato, Frontex a Varsavia, Chiasso al confine con la Svizzera, Sventimiglia anche al confine con la Francia, sono emblematici, racchiudono in tre esperienze, quello che è un pochino l'essenza, il core di questa breve chiacchierata, di questa presentazione che faccio oggi con voi, perché rappresentano tre momenti in cui l'accordo di Schengen si declina operativamente sul terreno. Perché questo? Perché in effetti l'accordo di Schengen è l'accordo che deve garantire contemporaneamente la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione Europea, assicurando nel contempo la libera circolazione all'interno degli stati membri dell'Unione Europea. Questo, detto così, potrebbe sembrare ed era sembrato originariamente un momento di totale apertura, totale condivisione, non ci sono più frontiere, in effetti le frontiere terrestri sono state tutte, proprio fisicamente le caserme o i posti di polizia, gli uffici di polizia, le frontiere terrestri, quindi alle frontiere interne dell'Unione Europea, sono state tutte smantellate, in quanto, se non quelle che potevano essere utilizzate perché lontane dalla fascia confinaria, sono state smantellate perché non c'era più necessità di avere questi controlli di frontiera, controlli alle frontiere interne. E in effetti andando alla frontiera del Friuli, dove sono stato recentemente, addirittura si vedono delle caserme di frontiera che risalgono ancora un'epoca, diciamo, di guerra fredda e fa un po' impressione vederle oggi in un contesto di totale apertura, di totale amicizia italo-slovena. Il fatto che siano state abolite le frontiere e siano stati grandemente modificati nella loro declinazione operativa anche i controlli di frontiera, che non possono più essere svolti sulla frontiera, come assolutamente voi sapete, ma nella fascia di retrovalico, non possono essere effettuati in maniera sistematica, se non in alcune circostanze, ma in maniera randomica, fanno sì che apparentemente questo sistema consenta una totale permeabilità delle frontiere interne, cosa che sulla carta è vera, ma sappiamo, perché lo vediamo tutti i giorni, ormai da parecchi anni, sappiamo che così non è. In realtà qualche giorno fa, il signor Capo della Polizia, parlando con una delegazione di parlamentari di un'altra commissione, diceva giustamente che ha senso ancora parlare di Schengen, visto che in certi momenti sembra veramente porsi il problema se questo trattato ha ancora una validità, e sicuramente ha una validità. Ci mancherebbe anche di negare quella che è una delle conquiste fondamentali dell'Unione Europea, cioè la libera circolazione dei beni e delle persone all'interno dello spazio comune di libertà europeo. Però questo sistema ha al suo interno anche delle contromisure, o meglio, quelle che noi chiamiamo e vengono chiamate misure compensative a questa abolizione dei controlli di frontiera, misure compensative che servono per consentire agli Stati membri di sopperire al venir meno dei controlli sistematici alla frontiera per garantire la sicurezza delle frontiere, la sicurezza esterna dell'Unione Europea e il contrasto alle attività criminose trasfrontaliere, ivi compresa l'immigrazione irregolare. Ed è queste misure compensative, per quanto riguarda ovviamente l'Italia, si sono declinate in accordi di cooperazione con i quattro paesi che insistono sulle nostre frontiere terrestri e che sono Francia, Svizzera, Austria e Slovenia. Sono misure compensative che prevedono un livello di cooperazione tra le forze di polizia dei differenti paesi proprio per accentuare il livello di controllo di queste frontiere. Sono due cose molto differenti fra loro, il lavoro che si fa alle frontiere interne e il lavoro che si fa alle frontiere esterne, quindi è persino tautologico dirlo, non che alle frontiere esterne non si lavori con altre polizie, ma il tipo di attività è completamente differente. Nel caso di Francia, Svizzera, Austria e Slovenia abbiamo frontiere terrestri, ancorché con la Slovenia abbiamo anche un tratto di mare, con la Svizzera abbiamo i laghi, insomma con la Francia pure un breve tratto di mare, ma essenzialmente è lavoro sulle frontiere terrestri, che è il lavoro che si fa e nel quale si sostanzia uno dei core business iniziali della polizia di frontiera e delle polizie di frontiera in Europa. Il fatto che non ci siano più controlli sistematici alle frontiere, che il controllo venga fatto nelle fasce di retrovalico, non vuol dire che non si facciano controlli come dicevo prima, perché in effetti esistono delle tipologie di ripristino dei controlli alle frontiere che sono rigorosamente previsti dal codice frontiere Schengen e dal manuale Schengen e che prevedono sostanzialmente tre tipologie di ripristino dei controlli, una procedura ordinaria, una procedura eccezionale e una procedura richiesta, eseguita, su raccomandazione del Consiglio, su proposta della Commissione. Le prime due, ma anche la terza tutto sommato, sono state ampiamente usate da praticamente tutti gli Stati europei. C'è un elenco molto lungo, che come dicevo prima, si fa prima a dire quali sono i paesi che non hanno mai applicato questi controlli o li hanno applicati soltanto nelle procedure ordinarie, si fa prima a dire quelli che non l'hanno applicato rispetto a quelli che l'hanno applicato. Uno di quelli che non l'hanno applicato è l'Italia, se non nei casi previsti e strettamente limitati, nei casi in cui c'erano dei grandi eventi che si svolgevano in Italia, come il vertice dei capi di Stato e di Governo dei paesi aderenti al G8, il famoso Genova dal 20 al 22 luglio 2001, il meeting del Social Forum europeo nel 2002, il vertice dei capi di Stato e di Governo dei paesi aderenti al G8, l'Aquila del 2009, e il vertice dei capi di Stato e di Governo dei paesi aderenti al G7, Taormina 2017. L'Italia ha applicato la tipologia delle procedure di chiusura di frontiera ordinaria soltanto in occasione di questi quattro grandi eventi. Non l'ha applicata adesso nell'emergenza Covid, credo che siamo uno dei pochi paesi che non l'ha applicata, laddove la stragrande maggioranza dei paesi lo ha fatto. Da questo potrebbe sorgere una domanda, diciamo, ma come gli altri controllano e noi no. Il fatto di non applicare il controllo sistematico alle nostre frontiere non vuol dire che non si controlli, anzi, diciamo che è un onere per le forze di polizia di frontiera maggiore, ma contemporaneamente è anche uno sprone maggiore per dimostrare che tutto sommato, spero di non essere io, per dimostrare che l'Italia riesce a mantenere... Facciamo una verifica dell'impianto, per favore. Sospendiamo un attimo. Parlo su questo? No, mi sposto. Ci spostiamo. Mi metto di qua, guardi, così. è uno sprone anche per le forze di polizia il dimostrare che il nostro paese senza mostrare i muscoli, tra virgolette, o senza forzare l'applicazione di normative europee, riesce a garantire un ottimo livello di sicurezza. E faccio notare a questo proposito che per il terzo anno consecutivo, nonostante che siamo in piena emergenza Covid, l'aeroporto di Fiumicino è stato giudicato il miglior aeroporto d'Europa e quando si dice miglior aeroporto d'Europa non è soltanto l'aspetto puntualità dei voli, consegna bagagli, ma è anche, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, visto che il merito è soprattutto della dottoressa e delle donne, gli uomini e della polizia di frontiera, dal nostro punto di vista è la sicurezza, che è una sicurezza efficace, presente, non ostentata, che capiterà di andare in giro per aeroporti europei, si vedono tanti piccoli rambo che girano armati fino ai denti, anche noi lo siamo, ci mancherebbe, siamo poliziotti, io ero poliziotto, ma diciamo è chiaro che siamo in grado di utilizzare, se necessario, misure coercitive, ma non sono ostentate e il livello di sicurezza anche di chi arriva in Italia, la percezione di sicurezza è una percezione direi di una forza tranquilla, quindi questi controlli l'Italia, per tornare ai nostri controlli in base al codice Schengen, li abbiamo applicati non nel caso del Covid, poi esiste un'altra modalità di controlli, che è quella forse che più spesso appare sui nostri giornali e anche sicuramente all'attenzione della politica, è il controllo, quello diciamo eccezionale ai sensi dell'articolo 28 del codice Schengen, è quello per la minaccia grave per l'ordine e la sicurezza pubblica di uno Stato membro, ecco questo è la tipologia per esempio che i nostri vicini francesi stanno utilizzando praticamente con una sfumatura più o meno accentuata dal 2015, quindi sono passati 5 anni, il periodo massimo di applicazione di questa misura sarebbe 2, periodicamente viene rinnovata, c'era stata, devo essere sincero, devo essere onesto anche nei confronti dei colleghi francesi e della Francia complessivamente, che è periodicamente oggetto di attenzioni delituose da parte di organizzazioni terroristiche o da parte di singoli terroristi, prima dare atto ai francesi che ci avevano annunciato che avrebbero interrotto questi controlli di frontiera dopo l'ennesima proroga, perché ogni volta che ci incontravamo io con il mio collega, il mio corrispondente prefetto della Polizia di frontiera francese, dicevo scusate quando la finite con questi controlli perché siete un po' fuori tempo massimo, e avevano detto, se io li interromperemo, in cambio, però mettiamoci d'accordo su come compensare questa fine dei controlli, poi adesso ci veniamo. Poi ci sono stati un paio di attentati di fila, ovviamente i francesi li hanno ulteriormente prorogati. È chiaro che dal punto di vista di paesi che vengono colpiti dal fenomeno terroristico o da attentati, uno dei primi istinti è chiudere la frontiera, anche per dare un segnale alle opinioni pubbliche interne. Chiudiamo la frontiera, proprio se vogliamo guardare attentamente il profilo dei 74 autori di attentati dal 2014 al 2020, questi dati me li sono fatti fornire dai colleghi dell'antiterrorismo, io non mi occupo di terrorismo da un sacco di tempo, dai tempi veramente in cui c'erano ancora le deformazioni terroristiche erano quasi embrionali, insomma. Dei 74 autori ben 37 sono cittadini di paesi europei, quindi la frontiera c'entra veramente poco, e 18 erano regolarmente soggiornanti sul territorio di quei paesi. 19 erano quelli irregolarmente soggiornanti o di quella cui posizione non è nota. Quindi è chiaro che la misura è una misura di protezione, una misura assolutamente legittima, da un punto di vista tecnico, se vogliamo, non trova proprio riscontro in quello che si è verificato in questi anni in Europa. È pur vero che esiste tutta una corrente di pensiero attualmente, anche adesso in sede di Commissione europea e di paesi membri, quando si discute del patto di migrazione e asilo, esiste una corrente molto forte che tende a evidenziare ed enfatizzare il profilo securitario di Schengen a discapito del profilo di libera circolazione. Ripeto, sono paesi, quasi tutti i paesi europei sono stati toccati purtroppo da questi eventi. Noi, ripeto, facendo tutti i debiti scongiuri, l'Italia ancora, l'Italia no, non ancora no, l'Italia fino a questo momento no. Queste misure in effetti sono misure che prevedono, e vengono più o meno inasprite, la Francia l'ha ulteriormente inasprita proprio con il dispiegamento fisico di un'ulteriore aliquota di suo personale delle forze di polizia alle frontiere sia italiane che spagnole, sono misure che in effetti la norma prevederebbe con determinati limiti temporali. Alcuni paesi, la Francia è il caso più eclatante, ma poi adesso guardando gli elenchi ho visto che anche la Svezia li ha tenuti in piedi per quasi tre anni, però è chiaro che a noi come Italia rileva di più l'aspetto francese. Ma come vi dicevo prima, esistono queste misure compensative ai controlli di frontiera, che nel caso francese ancora per un periodo spero limitato andranno di pari passo con l'inripristino dei controlli, che sono quelli delle intese tra le forze di polizia, della collaborazione tra le forze di polizia. Devo dire, in linea generale, parlando sempre di frontiere interne, ovviamente parliamo quindi di collaborazione con le forze di polizia europee, costruendo sulla base di fondamenta estremamente solide poste dal mio predecessore, il compianto prefetto Pinto, il rapporto con le polizie di frontiera degli stati confinanti sono eccellenti, veramente molto buoni. Ci sono dei picchi magari anche di incomprensione, ecco, dei momenti più o meno di… che soprattutto da parte dei nostri paesi confinanti tendono a allarmare un po' la percezione anche da parte dell'opinione pubblica, come quando si disse all'Austria schiera i carri armati alla frontiera. Non erano carri armati, ecco, il collega d'Austria come è immediatamente chiamato mi ha detto guarda che non sono carri armati, sono blindati come quelli che hanno le forze di polizia italiane, ecco, vediamo di capirci, ma per esempio nel caso della Francia si sta discutendo e soprattutto la dottoressa Tittoni che ne è a capo di un gruppo misto italo-francese per addivenire alla formazione di quella che è stata definita, gli francesi la chiamano brigata mista italo-francese, per noi brigata ha un significato militare, sono 3.000 uomini insomma una brigata, non sarà una brigata di 3.000 uomini perché vorrebbe dire che svuoto tutta la frontiera italiana per metterla a quella francese, la brigade per i francesi è quello che noi chiamiamo un ufficio misto. Questo ufficio misto costruisce a sua volta sulla base di una cooperazione molto stretta che già esiste al confine italo-francese, però avrà la caratteristica di essere una struttura permanente, cioè ci saranno un tot di poliziotti italiani e francesi, dovrebbero essere 12 e 12, più o meno, il punto di approdo di questa brigata mista sarà numericamente questo, che permanentemente con una propria sede, che non sarà più la sede della polizia italiana di qua o della polizia francese di là, ma sarà un ufficio fisicamente uno stabile con un comandante, un vicecomandante, dei turni di servizio regolarmente stabiliti, delle procedure, ovviamente delle procedure di ingaggio e di intervento sui due territori perché io ci tengo particolarmente al concetto di reciprocità, cioè quello che noi consentiamo agli altri di fare in Italia, io esigo che sia consentito all'Italia di fare nel territorio straniero, esigo nei limiti in cui io posso esigere ovviamente, ma è un prerequisito, poi ci sono dei momenti in cui questo rapporto può anche non essere paritario, questo non vuol dire che si fa una pattuglia in Francia, se ne fa una in Italia, può anche darsi che non sia così, perché per esempio in Slovenia abbiamo le pattuglie miste con gli sloveni, su dieci pattuglie che si fanno al confine italo-sloveno non sono cinque e cinque, sette le facciamo noi di là e tre le fanno loro di qua, perché? Per una questione di organico, per una questione anche di controparte, riconosce che il fenomeno si contrasta meglio lavorando di più su un lato del confine piuttosto che sull'altro, quindi questa brigata mista vedrà la luce quanto prima, il Ministro dell'Interno, la signora Ministro dell'Interno si è impegnato con il suo omologo francese a costituirla quanto prima, ci sono un po' di dettagli da mettere a punto, ma credo che assolutamente si farà, perché è costruita sulla base di rapporti che già esistono tutto sommato e sono ottimi, certamente quando uno guarda i numeri, visto che la Francia ha questo ripristino dei controlli di frontiera così serrato, i numeri dei loro respingimenti sono molto alti, questo è assolutamente incontrovertibile perché il flusso è dall'Italia verso la Francia, non il contrario, questo mi sembra abbastanza evidente, ma questi rapporti fruttano o portano a importanti operazioni di contrasto al traffico di esseri umani, importanti operazioni anche nel traffico di droga, quindi a criminalità trasfrontaliera più propriamente detta, o anche nella cattura di latitanti. Questo per quanto riguarda la Francia, molto brevemente, se guardiamo all'altro versante, che erano i due argomenti sui quali è stata attirata la nostra attenzione, nostra attenzione da parte del Comitato, è Slovenia. I rapporti con la Slovenia, anche qui, sono rapporti molto buoni, ottimi, c'è una totale condivisione delle procedure operative, delle finalità anche operative, come vi ho detto prima, gli sloveni accettano una maggior presenza italiana da loro di quanto noi non accettiamo la loro da noi e hanno portato, ci sono queste pattuglie miste che sono entrate in funzione un annetto fa, più o meno, tutto questo è chiaro con la Francia, con la Svizzera, con l'Austria, con la Slovenia, tutto quanto noi parliamo in condizioni pre-Covid, perché è chiaro che adesso le pattuglie miste congiunte, che stanno due persone sulla stessa macchina o due persone che fanno il servizio a bordo treno, al di là e al di qua del confine, sono un po' rallentate. In alcuni casi sono state sospese, anche perché presuppongono comunque un'attività di addestramento e un'attività di costante affinamento che magari in questo momento sarebbe meglio sospendere, anzi è stato meglio sospendere, ma con la Slovenia c'è questo anche qui, forse pattuglie congiunte, pattuglie miste, abbiamo proposto varie cose anche agli sloveni, tipo un pattugliamento a scacchiera del confine, cioè io Italia vigilo sui settori A, B, C, tu vigili sui settori D e F, in maniera che ci si incroci in questo controllo, tenuto conto ovviamente come dicevo prima che non tutte le forze di polizia europee hanno le stesse dotazioni, negli stessi organici che magari abbiamo noi. Però il risultato, devo dire, non sono stati risultati eclatanti, perché non stiamo parlando, vorrei essere preciso, non dare l'impressione che dispieghiamo centinaia di uomini e donne della polizia in queste attività, non è così, si tratta di decine di unità, però sono unità che fanno la differenza, fanno la differenza anche nella percezione del cittadino. Questo me lo disse per esempio a Chiasso il collega della polizia svizzera, anzi delle dogane svizzere, perché la polizia di frontiera dipende dalle dogane, quando inaugurammo le pattuglie miste anche là in alcune zone della frontiera italo-svizzera e mi disse, guarda, tu non hai idea che bene fa al cittadino svizzero di vedere la macchina della polizia italiana insieme alla macchina della polizia svizzera fermi a un incrocio, a un crocicchio, a quello che è, e fare i controlli insieme. Dico, no, io ne ho idea, gli ho detto, perché anche da noi è la stessa cosa, la percezione della sicurezza non è che quella degli svizzeri è più acuita di quella degli italiani, insomma abbiamo tutti quanti la percezione della sicurezza e vedere che queste forze di polizia lavorano insieme, è sicuramente un valore aggiunto rispetto a quello che può essere il normale controllo nazionale. In prospettiva potrebbero esserci ulteriori sviluppi, quello con i francesi ve l'ho detto, quello con gli sloveni potrebbe essere un maggiore coinvolgimento nostro, gli sloveni gradirebbero anche la presenza degli austriaci, se non ricordo male, in attività proprio all'interno del loro territorio, attività di controllo, e questo capite che siamo ancora in una fase molto embrionale, tutto quanto è un po' in stand by proprio per il discorso Covid, ma sarebbe una cosa assolutamente, non dico rivoluzionaria, perché le forze di polizia rivoluzioni tendono a non farla, insomma, ma sarebbe una cosa assolutamente innovativa per quanto riguarda noi, io posso dire che per esempio la polizia svizzera, la polizia di frontiera svizzera, la polizia di frontiera tedesca, questo tipo di attività già lo svolgono, io ho assistito a, non era un'esercitazione, era un'operazione vera e propria, di questa, chiamiamola anche in questo caso, brigata mista, tra svizzeri e tedeschi, che operava bene all'interno del territorio svizzero nel fare controlli su un tratto di autostrada, non erano controlli mirati all'immigrazione clandestina o irregolare, erano controlli di polizia a tutto tondo, nel caso nostro sarebbero più controlli mirati al contrasto dell'immigrazione irregolare, perché la Slovenia è una zona di transito dell'immigrazione, non è un paese d'origine, la Slovenia riceve migranti che arrivano da altre parti dei Balcani, la cosiddetta rotta balcanica e quindi ha interesse ovviamente a che ci sia una condivisione anche da parte degli altri due paesi che sono i due sbocchi maggiori dei canali di traffico, che sono Austria e Italia, ha interesse a che ci sia questa presenza, diciamo anche che nel caso della presenza degli austriaci è motivata dal fatto che ogni tanto l'Austria, adesso non mi ricordo se anche in questo momento, ripristina i controlli di frontiera con la Slovenia, noi no, noi verso gli sloveni no, gli sloveni verso di noi no, anche se hanno intensificato i controlli, ovviamente per il Covid come l'abbiamo intensificato noi, chiaramente dal punto di vista sloveno avere il poliziotto austriaco che lavora all'interno del tuo territorio è quasi una garanzia del fatto che l'Austria tolga questi controlli alle frontiere, che sono una cosa che viene vissuta molto male da alcuni paesi, perché specialmente gli ultimi arrivati nella famiglia europea, perché viene quasi vista come un segno di sfiducia, tu non sei ancora maturo per stare insieme a noi grandi paesi europei, il che obiettivamente non è, per lo meno per l'esperienza che posso dire io. Ho tratto a spunto da questi due viaggi, l'ultimo da queste commissioni, con il Presidente e la Commissione, l'ultimo per toccare Frontex, Frontex è l'agenzia della guardia di costiera e di frontiera europea, un'agenzia che ha sede a Varsavia, che è in via di rapida espansione, rapidissima espansione, sarebbe stata ancora più rapida se non ci fosse stato il Covid, ovviamente, ma che dispone e disporrà di ingenti fondi europei, perché si prevede che questa agenzia debba mettere in campo un corpo permanente a sua disposizione, tratto dalle forze di polizia e non soltanto dalle forze di polizia, anche in alcuni casi dalle forze armate o dalla vita civile degli Stati membri, che sia nella sua parte, chiamiamola quella che è categoria 1, permanentemente a disposizione di Frontex per degli interventi in aree che sono ritenute a rischio dal punto di vista migratorio. La domanda potrebbe essere, perché Frontex fino adesso non lo fa, abbiamo le operazioni congiunte Poseidon in Grecia, abbiamo la Temis nel Mediterraneo, c'è Indalo in Spagna, che sono tutte operazioni aeronavali, ma ha messo in campo anche operazioni terrestri come la Evros al confine tra Grecia e Turchia, diciamo verso agli inizi della pandemia, che c'era stato un picco, la Turchia aveva deciso di allentare un po' le maglie dei suoi controlli in frontiera, cosa che fa periodicamente, e quindi c'era questo rischio di ulteriore afflusso di migranti alle frontiere, ed ha messo in piedi questa operazione traendo, chiedendo agli Stati membri, mi dai una pattuglia, mi dai una nave, mi dai un elicottero, noi abbiamo contribuito per esempio con pattuglie della Polizia di frontiera italiana. Il corpo permanente consentirà invece a Frontex di avere a sua disposizione, questo personale ovviamente non sta a Varsavia, il personale italiano starà in Italia, ma quando ce ne sarà bisogno Frontex non dovrà più chiedere il permesso a me, come dire permesso tra virgolette ovviamente, o la concessione di questo personale, perché sarà a sua disposizione, lo chiamano, il personale si metterà un uniforme specifica che Frontex ha approvvigionato, avrà un armamento specifico che Frontex ha approvvigionato e si muoverà nell'ambito dei paesi europei e forse anche in quelli extraeuropei, questo è un ulteriore passaggio, sulla base di un addestramento congiunto che Frontex gli ha fatto fare nel corso dei mesi precedenti. Questo è un grosso passo avanti, che potrebbe schierare il personale alle frontiere terrestri è una cosa, io faccio parte del Consiglio d'amministrazione di Frontex, che peraltro è in corso oggi e domani, io dico sempre che una cosa è schierare il personale alla frontiera terrestre, una cosa è schierare il personale a setti, aereo navali, alla frontiera marittima, sono due cose totalmente differenti, purtroppo in molti paesi europei, devo dire, specialmente quelli del nord Europa, questa percezione stenta a farsi strada. Verrà schierato questo personale e verosimilmente potrà anche essere di ausilio nell'attività di rimpatrio. Su questo ci sono un po' di discussioni in corso sul ruolo di Frontex nell'ambito dei rimpatri futuri, che già lo svolge, sia in senso di sovvenzione, di finanziamento dei voli charter o dei voli di linea, ma anche con la presenza di suo personale, presenza che sarà in prospettiva, specialmente col nuovo patto migrazione-asilo, dovrebbe essere ulteriormente aumentata. Quanto potrà essere efficace? Io sinceramente non lo so, ho qualche perplessità, ma non perché Frontex non è in grado di fare quello che gli viene richiesto, perché noi combattiamo con i rimpatri, io combatto con i rimpatri personalmente tutti i giorni e so che non è esattamente una cosa facile, ma anche qui l'Italia nel suo piccolo, credo che sia il secondo o terzo paese per numero di rimpatri effettuati e credo che siamo il primo paese per numero di rimpatri effettuati verso l'Africa e questo è una cosa estremamente importante, perché forse è più facile rimpatriare dalla Germania alla Georgia che non rimpatriare dall'Italia al Sudan o all'Egitto o alla Tunisia. Quindi questo è un po' anche il futuro di quello che potrebbe essere Frontex in prospettiva e quando col Presidente faremo un'ulteriore missione a Frontex e stavolta spero di poter restare un pochino di più con voi e non scappare come l'altra volta, forse Frontex avrà già superato questa prima fase di dentizione di quello che sono elementi che al momento mancano perché ancora non è entrato in funzione, elementi più provanti di quanto può dare come agenzia europea come contributo alla sicurezza delle nostre frontiere esterne, perché ricordiamoci Frontex è nata e vive per garantire la sicurezza alle frontiere esterne. Alle frontiere interne, come dicevo prima, provvedono i singoli Stati membri attraverso alcune delle attività che vi ho molto sommariamente esemplificato prima. Grazie Prefetto, siamo a disposizione anche della Dottoressa Tittoni se vuole, altrimenti procedo. Vuole intervenire? No, no, no. Ok, procediamo. Ci tenevo a ringraziarla e attraverso lei, attraverso la Dottoressa, ringraziare il lavoro quotidiano H24 di tutti gli agenti, le agenti e gli agenti delle polizie di frontiera, in particolare in questa giornata di oggi, che è la giornata internazionale contro le violenze nei confronti delle donne, io ci tenevo a ringraziare il vostro operato delle agenti e degli agenti di polizia di frontiera perché vanno ad operare su scenari che a me purtroppo riguardano anche le fattispecie di questi odiosi e deprecabili reati proprio di violenza contro le donne. Io ne cito uno che può essere attinente rispetto all'attività delle polizie di frontiera che è il traffico di esseri umani, ovvero lo sfruttamento poi conseguente della prostituzione, quindi quello che poi vediamo sulle nostre strade che a me purtroppo poi passa anche dai confini marittimi o terrestri, quindi credo che facendomi anche portavoce dei colleghi del Comitato che nella giornata di oggi soffermarci, ringraziando l'opera dei nostri agenti che ovviamente è quotidiana e lodevole, insomma condannare insieme quanto di più violento può esserci se non camminare o essere in macchina tra le strade anche sulle strade del nostro paese e vedere insomma delle donne che sono costrette a prostituirsi, vittime di racket, di mafia o di altre situazioni che poi passano anche dai nostri confini. Io le chiedo poi a proposito dei nostri agenti a cui portiamo il nostro saluto veramente di cuore, noi le vediamo nelle ferrovie, le vediamo nelle ferrovie, negli aeroporti, sugli scenari anche oggetto di altre nostre missioni che svolgiamo come Comitato bicamerale e si interfacciano con tutti i cittadini italiani nel momento in cui si muovono anche in altri ambiti. vorrei chiedere proprio anche nell'ambito di questa emergenza Covid fisicamente come stanno i nostri agenti, se ci sono stati dei problemi proprio anche di salute che hanno riguardato e stanno riguardando da vicino i nostri uomini e le nostre donne in divisa e volevo anche chiederle magari ci si può aggiornare rispetto a questa richiesta successivamente se ci può fornire dei dati rispetto agli organici degli agenti di polizia di frontiera nei vari scenari e diciamo che istituzionalmente noi anche in missione o qua in Comitato sottoponiamo sempre, ci troviamo da parlamentari, almeno io personalmente o anche nell'ambito di audizione che abbiamo avuto con la signora Ministro all'interno a sottoporre la questione in generale degli organici forze dell'ordine nel nostro Paese e chiediamo sempre un potenziamento in modo tale poter raggiungere gli standard, solo che riguardo la polizia di frontiera io non conosco come i numeri, se gli standard sono in linea rispetto a quanto previsto, spero di sì, anche conoscendo comunque poi la situazione a livello globale del Paese e anche delle forze dell'ordine in genere dove un po' ovunque ci sono delle situazioni di organici che in certi ambiti soffrono sempre un po' insomma carenze o d'altro e dove si lavora c'è sempre un impegno per implementarli e per sostenere una presenza. La parola ai senatori, ai colleghi parlamentari, c'è qualcuno che vuole intervenire? Onorevole Galizia, prego, ex capogruppo nel comitato del Movimento 5 Stelle, deputato, prego. Grazie Presidente, grazie, ringrazio il Prefetto Bontempi per le interessanti informazioni che ci ha fornito in questa audizione di oggi, noi ci siamo già incontrati a 20 miglia, nella precedente missione e in quella circostanza parliamo molto specificatamente un po' dell'accordo con la Francia sulle frontiere e all'epoca si stava ancora facendo l'accordo con la Slovenia, me lo ricordo perfettamente perché poi ce lo mandò in seguito l'accordo e quindi era in via embrionale. Adesso penso funzioni bene questo accordo con la Slovenia, come stava dicendo lei, però io le volevo fare una domanda perché abbiamo ascoltato il Governatore Fedriga in prima commissione il giorno 9 novembre e Fedriga lamentava invece che i pattigliamenti confinari italo-sloveni sono molto scarsi, riporto le sue parole di Fedriga, e il loro funzionamento velocizzerebbe le reammissioni di immigrati irregolari in territorio sloveno. Queste le sue parole. Poi ci ha snocciolato un po' di numeri su quelle che sono le reammissioni che sono state in 1321 e l'espulsione in 1124, però sono sempre numeri impegnativi che per lui vede come un costante allarme su questo fronte. Le volevo chiedere qual era invece il suo punto di vista su questo tema, se effettivamente la situazione è così critica oppure no. L'altra domanda che le volevo fare è legata a quello che era una considerazione fatta dal Presidente, oggi è la giornata che riguarda appunto la violenza sulle donne, è uno dei temi molto dedicati che noi stiamo trattando all'interno di questa commissione, è la tratta di essere umane e poi lo sfruttamento per fini di prostituzione. Secondo le indagini che noi abbiamo realizzato in questo comitato noi ci siamo occupati di mafia nigeriana e a quanto pare, almeno da quelle delle notizie che siamo riusciti ad raccogliere finora dalle testimonianze raccolte, molte di queste donne arrivano anche per canali formali, quindi non con i barconi, perché poi con i barconi è vero che il 9,9% sono donne degli arrivi con i barconi, ma molte di queste, anche loro sono sempre vittime di violenze poverine perché fanno un viaggio terribile in cui subiscono violenza di ogni genere, però c'è una quota parte delle donne che vengono sfruttate sul nostro territorio, che invece arrivano per le vie legali. Io vi volevo chiedere che ruolo svolge la poesia di frontiera su queste che arrivano per vie legali, se fate segnalazioni, se avete dei contatti, non so, per quanto riguarda poi tutta la questione dell'indagine, se avete delle informazioni in merito, perché c'era questo canale delle cosiddette le belle nigeriane che appunto come merce di qualità vengono spedite, perché così riportano un po' le carte per vie legali, per non perderne diciamo l'integrità e questo è anche un canale legale che è lo stesso canale legale che utilizzano per la droga, perché anche quella essendo una merce di alto valore viene poi spedita per vie legali. Sempre riguardo alla rotta balcanica io avrei tantissime domande, perché tutte le questioni legate un po' alla polizia slovenia sono arrivate tante segnalazioni da tante ONG legate al fatto di questi respingimenti già in slovenia, se voi avete contezza avete alcune informazioni in merito da darci, anche così al limite della regolarità, però io le prendo con le dovute pinze perché sono anche notizie di poco, come potrei dire, che lasciano un po' il tempo che trovano, ecco lo lascio così per non entrare nel merito e se volevate darci qualche altro dettaglio su questa rotta che secondo me è importante tenere sotto controllo perché è molto delicata, oltre a quella del Mediterraneo. Grazie. Grazie, grazie onorevole Galizia. Senatore Ivobi, Tony Ivobi, senatore Lega, prego. Grazie direttore, grazie per la sua, molto importante quella che lei veramente ci ha fatto, che abbiamo ascoltato oggi, veramente importantissimo. Poi eventualmente io mi ha assolto alcune perplessità, alcune domande che ovviamente non sono domande che dobbiamo rivolgere a lei, è una domanda politica ovviamente, quindi io posso capire l'abolizione delle frontiere interne che è concepibile, poiché è regolamentato dal trattato di Schengen, no? Un trattato che dovrebbe rafforzare il controllo delle frontiere esterne, non soltanto quelle interne ovviamente, penso, no? Qui il nostro paese è ampiamente soggettato in quanto frontiere esterne, marittime, no? Quindi io, questa mi fa sorgere una domanda un po' particolare, dato che la questione di sicurezza è fondamentalmente importante non soltanto per il singolo paese, ma anche per intero europeo, comunità europea. Quindi non capisco la motivazione per la quale il nostro paese non ha applicato il dovuto controllo, sancito anche dal trattato Schengen, no? Di chiusura dei confini esterni, sancito ovviamente i confini esterni di cui siamo soggettati, ovviamente, marittime, parliamo dei marittime, quelle principalmente utilizzate per il traffico di esseri umani, no? Particolarmente in questo momento di alta crisi sanitaria in cui stiamo attraversando, forse per mancanza di volontà politica del nostro governo o esistono altre motivazioni di cui non siamo a conoscenza. Questa è una domanda non rivolta a lei, ovviamente, perché lei non è un politico, quindi non può darmi una risposta un po' più ampia. Poi concludo a ne dire che non ha senso il controllo congiunto dei confini interni, no? Con i cosiddetti brigati misti, no? Oltre all'esistenza del fronte, sono ormai anni che esiste e stiamo contribuendo anche per la sua esistenza, per il suo, cioè, per il lavoro che dovremmo svolgere a me per i confini esterni del continente di cui il nostro paese comunque è soggettato. spalancando comunque in modo indiscriminato tali confini esterni. Ma il fronte, qual è la sua mansione fondamentale? Cos'è che deve fare? Il perché della sua esistenza? Poi i rimpatri, lei ha parlato di rimpatri, ovviamente. Come vengono eseguiti questi rimpatri? Con quali paesi? Ovviamente i paesi con cui abbiamo in essere gli accodi bilaterali, perché credo che senza gli accodi bilaterali non possiamo eseguire questi rimpatri. Quindi vorrei sapere più o meno da lei quali sono i paesi con cui abbiamo tuttora, oggi, in esistenza, su che abbiamo questi rimpatri, questi accordi bilaterali per poter rimpatriare. E quanti sono stati rimpatriati fino ad oggi? Grazie. Grazie, grazie al senatore Ivo Obi. Ci sono altri interventi? Senatrice Testor, prego. Grazie Presidente, grazie al Prefetto Bontempi per la sua relazione. Volevo associarmi anche io al ringraziamento del Presidente per quanto riguarda appunto il contributo da parte di tutte le forze dell'ordine per quanto riguarda appunto la giornata inerente oggi contro appunto la violenza contro le donne. Io volevo un po' diciamo spiegare una cosa perché è stata estrapolata una frase del Governatore Fedriga che forse andrebbe anche un pochino contestualizzata. Cioè andando a memoria in quella giornata praticamente si stava parlando del problema appunto della rotta balcanica di quanto fosse incidesse appunto sulla regione questa immigrazione soprattutto in un periodo di Covid. E una delle richieste che era stata fatta era appunto quella di andare a chiudere alcuni valichi proprio per poter concentrare le forze di polizia in alcuni posti. Quindi non era una critica rivolta verso le forze di polizia anche c'era stato appunto un ricordo bene dei complimenti per anche per quanto riguardava appunto la collaborazione con le due forze dell'ordine che credo che siano fondamentali lavorare proprio sul controllo con le forze dei vari stati membri dell'Unione Europea. Un'altra considerazione che volevo farle credo che la Francia in questo momento appunto abbia questo atteggiamento forse un pochino anche più chiuso, forse anche un po' più rigido nei nostri confronti per gli episodi appunto che sono accaduti negli ultimi tempi che hanno appunto messo in luce una difficoltà che nasce proprio da questa immigrazione che porta persone appunto che hanno intenti insomma anche diciamo malavitosi o purtroppo si sono dimostrati poi in effetti terroristici in Francia. Quindi probabilmente anche questo atteggiamento un po' duro e chiuso proviene proprio da questi accadimenti. Niente, io la ringrazio per la sua relazione. Grazie. Grazie. Senatrice, onorevole Di Muro, prego. Grazie Presidente, la ringrazio per la relazione assolutamente interessante e che fa un quadro complessivo di quella che è la situazione ad oggi. D'altronde abbiamo anche assistito a audizioni dello stesso tenore in occasione della riforma dei decreti sicurezza che sono attualmente in fase di analisi, di votazione, gli emendamenti in prima commissione. Anche in quell'occasione abbiamo parlato di frontiere. Diciamo che è un momento anche a livello europeo e non solo nazionale in cui il tema di Schengen viene ridiscusso. Allora su questo io volevo capire, visto che ci sono state anche notizie di partecipazione e abbandono a fase alterna del tavolo da parte dello Stato italiano di riforma dell'accordo di Schengen, a che punto siamo se siete stati coinvolti e se non riteniamo noi Italia, almeno dal punto di vista tecnico vostro e siete operatori di prima istanza di questo accordo, che questo accordo di Schengen così come fatto e così come derogato, ovviamente il mio riferimento è alla parte francese, non abbia funzionato. Io sono assolutamente, voglio dire subito, per la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea, perché parliamo sempre di migrazione, ma ci sono anche dei rapporti lavorativi che riguardano i nostri frontalieri, dei rapporti turistici, dei rapporti commerciali, anche solo tra i comuni di confine, senza andare lontani. Questi li dobbiamo salvaguardare, però succede che per voler bloccare da parte di qualche Stato, spizzichi e bocconi, il fenomeno migratorio, spesso facciamo più un danno che un bene rispetto a quello che è proprio il contrasto a questi fenomeni criminosi. Allora dobbiamo, secondo me, sederci tutti intorno a un tavolo e riflettere sul funzionamento di Schengen, ma spero che l'Italia sia protagonista con la sua esperienza in tutto questo. Apprezzo le parole del Presidente Macron in seguito all'attentato di Nizza, che finalmente non si è concentrato sul confine di Ventimiglia, ma ha iniziato a capire che forse la Francia deve investire le proprie energie nell'aiutare l'Italia sui confini marittimi, perché evidentemente noi continuiamo da anni ad avere un tappo del fenomeno migratorio a Ventimiglia, frutto di attraversamenti sul suolo nazionale degli sbarchi di Lampedusa e sulle coste siciliane e della rotta balcanica, quindi sostanzialmente, se vogliamo, il problema non è come lavora la Polizia di frontiera in questo caso, ma come lavora la Polizia ferroviaria, probabilmente non hanno uomini a sufficienza o hanno disposizioni che sono dei vari ministeri che cambiano, però non è pensabile che si attraversino tutte le prefetture e le questure d'Italia su un treno per arrivare poi a oberare di lavoro gli agenti della Polizia di frontiera, a cui va il nostro ringraziamento. Ecco, non deve essere lasciato tutto sulle spalle di quei pochi soggetti istituzionali e di Polizia che coordinano le entrate e gli uscite dei migranti sul nostro paese, perché questo è arrivato a una situazione intollerabile. Lo dico a fronte di numeri forniti dalla stessa Polizia di frontiera in altra audizione, quindi ci tengo a lasciarli a verbale anche di questa seduta, perché sono numeri importanti, perché abbiamo superato il record, cioè nel mese di ottobre i respingimenti da parte francese al confine di Ventimiglia sono arrivati a quota 3.591, immaginatevi il flusso che c'è in quella zona, a fronte delle riammissioni passive di 15 soggetti in territorio francese. Quindi sono numeri che in un accordo bilaterale stridono, quindi anche ovviamente riguarda altri trattati oltre all'accordo di Scheng. È il momento di rivedere un po' tutto a mio avviso e spero che ci sia delle novità che magari può fornirci sulle riforme in corso a livello anche europeo. C'è un altro problema che voglio segnalare, che riguarda quello che può essere un aggravio di incombenze per la Polizia di frontiera, perché è vero che si possono fare dei pattugliamenti misti e potenziare degli accordi bilaterali anche in territorio francese, ma se poi c'è una vacanza di gestione di quelli che prendiamo in carico come Italia, che restano sostanzialmente ingestiti sul territorio italiano e quindi ogni giorno riprovano a passare il confine, noi ci ritroviamo in una situazione abbastanza paradossale. Quindi anche su questo spero che ci sia una collaborazione delle vostre forze insieme agli altri soggetti istituzionali, perché questi soggetti dalle zone di confine devono essere trasferiti in altre realtà, una volta si parlava della costruzione dei CPR nella prima versione dei decreti sicurezza che probabilmente verrà stravolto, però questo serve anche a calmirare quella che è la pressione sulle zone di frontiera. Volevo anche segnalare la disponibilità, farmi interprete di quelle che sono le istanze del mio territorio, parlo di Ventimiglia perché aprendo che c'è una nuova disponibilità di aprire una sede, di potenziare questo tipo di relazioni e su questo chiedo se c'è la volontà magari di fare un tavolo a Roma con i soggetti istituzionali, quindi Comune, Forze di Polizia, Prefetto e Questura per capire come integrare le nuove sedi, le nuove gestioni logistiche di queste nuove attività in modo che siano maggiormente e coordinato. Anche al fronte, e qui do una notizia ai miei colleghi della Camera, di un emendamento che pare abbia trovato condivisione nella Commissione prima, che è un contributo per i comuni di frontiera per progetti volti alla gestione dei flussi migratori, quindi potrebbero esserci anche delle risorse da mettere a sistema con questa nuova finalità, ovviamente al fine ultimo, che penso sia condivisibile da tutti, di non far pesare sui cittadini di queste realtà quelle che sono le conseguenze negative del fenomeno migratorio. Grazie. Grazie all'Onorevole Di Muro, che è il nostro deputato di frontiera a sezione 20 miglia. Io sono cuomo, confine, si ricorda... Ma è sembrato di capire. È sembrato di capire. Esatto. Prefetto, è proprio come dice lei sui rapporti tra le polizie. Noi abbiamo visto collaborare, siamo entrati anche proprio nelle stanze, nelle sale operative 20 miglia, insieme abbiamo visto collaborare i nostri poliziotti, i nostri agenti italiani con gli agenti francesi. Apprezzatissimo, proprio come dice lei, la collaborazione anche sul fronte di Cuomo, Chiasso, Italia-Svizzera. Lo apprezzano i cittadini svizzeri, ma anche soprattutto i cittadini italiani, i nostri. Che sono quelli che li pagano alla fine, quindi ci tengo un pochino di più. Esatto, e anche i nostri agenti. Abbiamo notato, almeno, anche dall'esperienza che abbiamo avuto insieme, anche successivamente, una soddisfazione in un'operatività, diciamo, una condivisa. Prego. Cerco di sinteticamente rispondere a tutti, poi è ovvio che sono a totale disposizione del Comitato per eventuali ulteriori chiarimenti che seguissero ai chiarimenti che sto dando. Allora, innanzitutto parto dalle sue osservazioni, la ringrazio per l'apprezzamento che ha dimostrato nei confronti delle donne, degli uomini della Polizia di Stato. Non dimentico che io condivido come direttore centrale anche l'onere di rappresentare le altre forze di Polizia, perché la mia direzione centrale ha dei compiti di coordinamento nei confronti delle altre forze di Polizia. Estendo, quanto detto, ovviamente a Carabinieri, Guardia di Finanza, a tutti gli agenti delle Forze dell'Ordine che operano sul nostro territorio. Non avrei fatto la spia dicendo il Presidente Zoffili, vi ha dimenticato, perché è meglio tenerseli buoni. No, io condivido con i colleghi di Guardia di Finanza, Carabinieri e Capitaneria di Porto e anche Marina Militare e talvolta anche con le altre forze armate. questo compito estremamente gravoso, ma estremamente appassionante, che è quello del controllo dell'immigrazione irregolare. Quindi la ringrazio per questo. Devo dire che abbiamo operato tutti quanti in un periodo particolarmente difficile, stiamo operando in un periodo particolarmente difficile, perché non è finita ancora, purtroppo. Io parlo per la Polizia di Stato, in questo caso abbiamo ricevuto dalla nostra Direzione Centrale di Sanità delle direttive estremamente chiare, perché il Capo della Polizia ha voluto che fosse così. Abbiamo ricevuto delle indicazioni estremamente chiare su quello come ci si deve comportare nelle varie tipologie di intervento che il poliziotto deve fare sul territorio. Abbiamo gli equipaggiamenti, gli equipaggiamenti di sicurezza ci sono stati anche forniti dall'Europa, devo dire la verità, l'aiuto anche in questo caso non è mancato. Il rischio zero non esiste, il rischio zero nel nostro, io dico sempre nostro, anche se ormai sono un prefetto, quindi in teoria non è più, ma il rischio zero nel lavoro del poliziotto non esiste, purtroppo e lo vediamo, si tratta di minimizzarlo, renderlo compatibile con l'efficienza del servizio e devo dire nella prima fase della pandemia ci sono stati sicuramente, purtroppo, dei colleghi che sono venuti meno, ma il numero è veramente ridottissimo, è sempre uno di più, per carità, però erano numeri estremamente ridotti perché si è adottata tutta una serie di misure estremamente puntuali, anche nei rimpatri, anche se ogni tanto la polemica viene fatta per quanto riguarda il rimpatri o con il poliziotto vicino al rimpatriando, non può essere che così, non può essere che così, il poliziotto sta vicino al rimpatriando con la sua tuta, con l'equipaggiamento di sicurezza, il rimpatriando è normalmente uscito da un CPR e quindi ha avuto un tampone per cui è negativo e diciamo a fronte delle migliaia di rimpatri che abbiamo effettuato quest'anno, anticipo una cosa che mi è stata chiesta, insomma sono 3.108 in questi giorni i rimpatri effettuati, a fronte di questi numeri c'è stato un caso di un tunisino, forse risultato positivo una volta arrivato là, probabilmente si trattava di un falso positivo, ma sta di fatto che i colleghi poliziotti che sono tornati da quel volo charter hanno fatto la loro quarantena, hanno fatto tutte le precauzioni possibili immaginabili, nessuno è risultato positivo, quindi questo veramente è un qualcosa che io do a titolo di merito della nostra direzione centrale di sanità che mai come in questa circostanza è stata vicina al personale e il personale si è sentito tutto sommato in condizione di operare tranquillamente, fermo restando che ripeto, se devo fare l'intervento e devo arrestare una persona, la distanza socialmente compatibile è un po' difficile mantenerla, così a occhi e croce, se me la metto sulla volante per portarla, io parlo ancora da sbirro, insomma dovete perdonarmi, ma se me la metto sulla volante per portarla in questura, lo spazio è quello che è, bisogna cercare di gestire l'emergenza sanitaria in modo da renderla compatibile con l'attività che noi dobbiamo comunque fare, anche durante la pandemia, forse soprattutto durante la pandemia, per garantire la sicurezza del cittadino. Gli organici, noi siamo 4.700 e spiccioli, dovremmo diventare 5.003 da qui al 2027, nel piano di potenziamento complessivo della Polizia, siamo una delle specialità, devo dire, che cresce percentualmente un po' di più rispetto alle altre, lo dico piano perché non vorrei che se ne accorgessero, poi cambiano idea, no ovviamente scherzo, è un riconoscimento del lavoro che noi stiamo facendo in tutta Italia alle frontiere terrestri, aeree, che svolgono un lavoro eccezionale, le frontiere aeree, vi dicevo prima di Fiumicino, ma le frontiere aeree hanno fatto quest'anno, vi do giusto un dato, le frontiere aeree quest'anno hanno fatto un totale di 3.100 respingimenti di frontiera, cioè che è veramente tanta roba, se consideriamo che il flusso di traffico aereo è estremamente ridotto, sono numeri altissimi, quindi devo dire che c'è un riconoscimento di questa nostra attività, quindi cresceremo impossibilmente, dobbiamo anche dire che il numero complessivo di 4.700 che diventeranno 5.300, non è esaustivo del comparto immigrazione, perché in molte realtà le attività di polizia di frontiera sono devolute, come si dice, alle questure o alle altre forze di polizia, cioè dove c'è un aeroporto piccolo che ha scarsa attività volativa o c'è un porto che non ha traffico extra Schengen, l'attività di frontiera, Lampedusa è un caso sul quale prima che vado in pensione, cioè il primo ottobre del 2021, è un caso sul quale è un'idea che mi frulla in testa da un po' di tempo, devo dire la verità, perché sarebbe opportuno secondo me per tutta una serie di motivi, ma laddove lavorano a Lampedusa, lavorano i carabinieri, lavorano benissimo in condizioni veramente critiche, se ci fate caso, visto che siete andati a Lampedusa e non mi avete portato, sulla caserma dei carabinieri c'è scritto Frontex, perché loro in quel caso hanno la mia delega a operare come polizia di frontiera, quindi il numero complessivo è quando si fanno i confronti tra polizia di frontiera italiana e magari polizia di frontiera di altri paesi, sono numeri molto più alti in altri paesi compatibili con il nostro ovviamente, però noi abbiamo questo vantaggio rispetto ad altri che forse altri paesi non hanno, quindi gli organici io li ritengo assolutamente sufficienti. All'Onorevole Galizia, lei parlava di riammissioni, poi è stato chiarito, insomma, chiaramente il Presidente Federica è molto attento, quella è la sua regione, è molto attento ai flussi migratori. Mi permetto di fare un'osservazione, quest'anno al 20 novembre, questi sono i dati che ho portato con me, abbiamo rintracciato 4.121 stranieri irregolari complessivamente sul confine italo-sloveno. L'anno scorso, nello stesso periodo, erano 4.074 al 20 novembre, l'anno scorso, nello stesso periodo, erano 3.660, quindi l'aumento non è stato, e l'anno prima ancora 2.591, periodo per periodo. C'è stato un aumento, sicuramente, non è stato l'aumento che per un momento, noi temevamo, ci sarebbe stato, perché c'è stato un momento in cui i flussi erano aumentati, quando ho detto che la Turchia aveva un pochino lasciato, aveva aperto un po' i rubinetti, ed era il periodo in cui si erano allentate le misure di sicurezza che i vari Stati europei avevano preso per contenere il fenomeno del Covid. Quindi erano ripresi anche i trasporti di linee, i trasporti terrestri, che sono comunque i treni, che sono comunque un vettore per il migrante. L'aumento c'è stato, ma è un aumento, diciamo, non eccessivo, per carità, visto da qua, magari è ovvio che per il Presidente Federica sia diverso. Ma quello che voglio notare è le riammissioni che abbiamo effettuato verso la Slovenia. L'anno scorso, periodo per periodo, 1 gennaio 20 novembre 237, quest'anno 1252. Cioè, voglio dire, la nostra attività si è raffinata proprio perché si era notato, e la signora Ministro l'aveva notato, il Presidente Federica l'aveva notato, ma anche gli sloveni l'avevano notato, che c'era un aumento di flusso di traffico. Era un flusso di traffico con tipologie anche differenti. I trafficanti o i migranti si erano resi conto che immediatamente a ridosso della frontiera, fra Trieste e Gorizia, diciamo. C'era un'alta possibilità di essere intercettati e riammessi, perché l'accordo di riammissione prevede appunto la riammissione accelerata, semplificata, se il migrante viene rintracciato entro i 10 chilometri dalla fascia di confine. Loro cercavano di bypassare, perché è ovvio questi controlli, come dicevo prima, non possono essere sistematici, non possono essere a tappeto, perché saremmo in violazione dell'accordo di Schengen, e cercavano di bypassare il dispositivo andando verso Udine. Udine è al di là di questi 10 famosi 10 chilometri. Allora cosa è stato fatto? Abbiamo chiesto agli sloveni di riattivare, ma anche concretamente, le riammissioni formali, non più quelle informali dei 10 chilometri della fascia di confine, ma quelle anche oltre. La procedura di riammissione formale è molto più complicata, richiede la produzione di una documentazione bella pesante che testimonia che il soggetto viene dalla Slovenia, mentre quella informale è un pochino più speditiva, proprio perché viene fatta a ridosso della fascia di confine. Noi non se ne erano fatte fino all'anno scorso di queste riammissioni, la dottoressa Titoni, prima di arrivare la dottoressa Titoni è stata al seguito del Ministro, sono andato su, mi sono reso conto, ho parlato con i colleghi, abbiamo visto quali erano i gangli, i punti nodali in cui al di là della fascia confinaria noi potevamo cercare di intercettare il migrante e i trafficanti soprattutto, il nostro scopo è il trafficante, il migrante viene intercettato ma non è il nostro nemico, insomma, questo sia chiaro. Quindi abbiamo fatto tutto un piano, i piani provinciali di controllo sul territorio con tutte le forze di polizia, questure, prefetture e tutte le forze di polizia con l'ausilio dei militari del dispositivo strade sicure, prima cosa. Seconda cosa, con il personale della dottoressa abbiamo mandato dei team alla questura di Udine proprio per aiutarli a costruire il dossier migrante per migrante per la riammissione formale e insomma quest'anno ne abbiamo fatte una cinquantina, non vorrei dire una stupidaggine, abbiamo fatto una trentina di riammissioni, diciamo che siamo partiti qualche mese fa, un paio di mesi fa con le riammissioni formali ed è comunque un bel risultato, cioè si è partiti da zero e siamo arrivati a un numero tutto sommato accettabile. Collegato a questo c'è quello che lei diceva, se devo sintetizzare lei me lo dica Presidente, ok. Polizia slovena, noi riammettiamo in Slovenia, la Slovenia è un paese europeo, stato di diritto e quindi riammettere il migrante trovato nelle condizioni in quella fascia di frontiera è una cosa assolutamente legittima, non è sottoposto a trattamenti disumani o degradanti, su questo siamo assolutamente sicuri perché è un paese dell'Unione Europea. Quando si va poi al di là dei confini europei, Bosnia, Serbia, lì magari bisogna stare un pochino più tranquilli, un po' più attenti, ma noi li rimandiamo in Slovenia. Mafia nigeriana, la polizia di frontiera ha un ruolo investigativo molto ridotto, noi interveniamo, svolgiamo attività investigative, come vi ho detto, per reati che si svolgono tipicamente in frontiera, la mafia nigeriana è un qualcosa di molto più complicato, del quale si occupa la direzione anticrimine, che svolge attività investigativa con lo SCO. Quello che posso dire io come frontiera è che quest'anno se noi guardiamo gli elenchi degli sbarcati o degli arrivati, i nigeriani non appaiono neanche nei primi dieci paesi di flusso. Lo erano l'anno scorso, in numeri ridotti, no, l'anno scorso praticamente 220 a fronte di qualche migliaio, in passato erano molti di più. Con la Slovenia abbiamo accordo di riammissione e accordo di riammissione con Volo Charter, perché la domanda che mi era stata fatta dal senatore Ivobi, poi lei ripeto mi dica quando devo concludere, qual è la differenza? Avere l'accordo di riammissione è una cosa, io posso riammettere la persona purché sia in possesso di un documento e purché il suo consolato me lo riconosca come tale. una cosa diversa è avere l'accordo di riammissione che autorizza il Volo Charter, che allora raggruppo un po' di queste persone, le metto su un Volo Charter e le riporto al loro paese con tutto un apparato molto complicato, molto complesso e quest'anno, ripeto, ne abbiamo fatti con tutto del blocco del traffico aereo, perché io posso anche caricarne 5.000 su un aereo, posto che ti sia un aereo da 5.000, ma se quel paese mi ha chiuso le frontiere aereo, mi ha chiuso lo spazio aereo, io non posso portarceli. Quindi con tutta questa difficoltà abbiamo fatto 3.108 rimpatri alla data di pochi giorni fa, che è un risultato secondo me molto buono, si può fare di più, certo che si può fare di più e si torna, si viene alla disponibilità dei CPR di cui parlava proprio lei, che insomma per tutta una serie di motivi non è elevatissima, noi come disponibilità di CPR abbiamo a oggi su una capienza teorica 1.274 posti uomo, abbiamo una capienza effettiva disponibile di 485, perché nei CPR bisogna garantire il distanziamento sociale, non li puoi ammucchiare uno sugli altri e in più ci sono 2 o 3 CPR che sono oggetto di lavori di ristrutturazione perché i nostri ospiti dei CPR hanno la tendenza un pochino ogni tanto a dargli fuoco e quindi bisogna rimetterli in sesto. Il numero dei rimpatri va di pari passo, sono due figure parallele, posti nei CPR, attività di rimpatrio per determinati paesi, non su tutti i paesi, è ovvio che ci sono paesi più ricettivi, paesi meno ricettivi anche sul singolo migrante, qui non stiamo parlando più di volo charter, anche sul singolo migrante ci sono paesi che collaborano di meno. In questo l'Unione Europea quando si farà questo fatto di migrazione e asilo per il quale voglio garantire, magari ogni tanto ci alzassimo e ce ne andassimo, avremo forse un pochino più di tempo per fare altre cose, cosa che non è, noi siamo presenti in tutte le sedi, in tutti i gruppi di lavoro e si tratta di negoziare, si tratta di negoziare perché come dicevo prima le nostre sensibilità mediterranee, Spagna, Italia, Grecia, Malta, Cipro e di qualche paese tipo la Bulgaria o anche la Croazia sono molto differenti dalle sensibilità di un paese nordico e chiudo facendo soltanto una battuta, qualche anno fa nel corso di un semestre di presidenza da parte di un paese baltico che non menzionerò, durante il briefing a noi direttori di frontiera questi ci dissero vabbè ma l'anno scorso noi abbiamo avuto 35 casi di immigrazione clandestina, 35 mila gli ho detto io, no 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 35, a quel punto di cui i veri immigrati clandestini erano una famigliola di vietnamiti di 5 persone che aveva cercato di presidenza, gli altri erano cercatori di funghi e pescatori che si erano persi nei boschi e nei laghi di confine con un potente vicino orientale. Quando si parla di queste cose è chiaro che la sensibilità, con tutto il rispetto ovviamente per i colleghi lassù che hanno altri problemi, la sensibilità è diversa e si tratta di portare, di trovare se necessario un compromesso, andare via sbattendo la porta, non è mai una, l'abbiamo sperimentato a Versailles nel 2018, penso che all'Italia sia bastata, bisogna cercare di negoziare, negoziare, negoziare ancora, trovare alleanze, il blocco dei paesi mediterranei, questa volta, ed è una prima assoluta, questa volta è un blocco che si contrappone in maniera estremamente efficace ai blocchi altri, ai famosi Visegrad o ai paesi frugali o altri e io sono fiducioso che qualche risultato si porterà a casa. Grazie, la ringrazio Prefetto per l'accuratezza, la professionalità delle notizie che ci ha fornito anche il suo intervento, l'approccio, mi permetto, operativo e si vede che è un uomo che ha lavorato appunto sul territorio, posso permettermi anche in strada, con gli agenti, a contatto proprio con le realtà e che poi, insomma, nella sua carriera è andato nel palazzo, a Roma, ma non ha dimenticato quello che, insomma, la portata ad essere qui lo trasporta nell'operatività, nella concretezza di tutti i giorni in particolare, questo momento di emergenza dove è importante sempre non dimenticarsi da dove si arriva. Mi permetto per, insomma, trasferire quella che poi è la teoria, quella che si legge nei manuali, nei rapporti o altro, nella vera pratica, sul confine è il vostro lavoro che è utile per tutti i cittadini italiani ed europei e anche per il mantenimento dei sacrosanti principi della libera circolazione del Trattato di Schengen per cui noi, con questo comitato parlamentare bicamerali, dobbiamo vigilare sulla sua attuazione. Quindi grazie per il suo intervento a disposizione, speriamo di poter tornare sul campo con lei perché è sempre utile e costruttivo e siamo a disposizione come parlamentari di questa Repubblica per il vostro lavoro e il lavoro dei vostri agenti in questo difficile momento. Grazie, l'audizione è conclusa.